Ehi, buongiorno ragazzi, come la va? Savi? Savi? Vai ciao? Ehi, mammaiala, come sei sociale? C'è il vorreo che qualcuno potrebbe mangiare? Yeeeeh, no! Yeeeeh! Ieri ci avete azzeccato, ero all'IKEA perché mi sto trasferendo in una nuova mezzone, ovviamente ero lì a prendere un po' di cose per arredarla, ecco. Prima o poi magari ve ne parlerò o ve la farò vedere. Tutto dipende da sottoscritto, ovviamente. Sono l'unica ad avere la ritrosa qui. Praticamente io qua, in questo punto qua, ho l'attaccatura dei capelli fatta praticamente a capello afro. Ed è solo qua. E quindi tipo mi fa questo ricciolo super urtante. Vedete? Questa cosa qua. Che ogni volta dovrei piastrare, ma non ho voglia. Detto questo, la mia pausa ormai si conclude. Giunge a termine, ahimè, di già. E raga, io vado a riprendere lo scopettone a pulire casa. Un grande kiss. Ragazzi, comunque stavo guardando i cuscini, guardate come si chiama questo. L'unico grandissimo problema che ha la casa nuova che ho preso è che non arriva, non arriva just it. Io so che avrei dovuto dire di non solo per quello, lo so. Ma l'ho scoperto dopo. Allora ragazzi, gli aggiornamenti sono questi. Siamo al decimo viaggio, ma non ce la stiamo facendo. Buona fortuna. Update. Anche oggi ho finito il mio dovere. Ancora c'è da pulire dentro questa casa, però... Sono molto contenta del risultato. Tra l'altro vi faccio vedere una fantastica pettinatura da casa l'ing. Questa qua c'è la mia mano.